E se ti dicessi che c'è una ricetta per il successo e c'è anche una cuoca? C'è un cuoca? No, la cuoca non c'è, perché il cuoco del proprio successo siamo noi, ognuno per il proprio. Però esiste un percorso e per forza, cioè vincere un'abitudine, ma lo è anche perdere. Chi continua a perdere, nonostante la propria intelligenza, nonostante il proprio impegno, nonostante il desiderio di farcela, è perché in qualche modo sta ripercorrendo una serie di errori che non riesce a vedere, che ritiene essere giusti, che non li riesce a individuare. Ed è per questo che il 6, 7 e l'8 di gennaio, dalle 19 alle 21, ma anche 22 e 23, terrò tre lezioni consecutive che ti aiutano a capire quelli che sono gli errori fatali, quelli che ti lasciano per terra e che è pressoché impossibile rialzarsi, e quelli che invece sono gli errori vitali, quelli che dobbiamo commettere per forza per diventare più forti, più strutturati, più capaci, più scaltri, in qualche modo meno ingenui e più preparati. Sì, perché diventare adulto vuol dire portarsi a dietro una serie di responsabilità, una delle quali principali, essere in grado di rispondere agli eventi della vita. Ecco, la vita la puoi subire in qualche modo o la puoi affrontare, cioè puoi in qualche modo aspettare che la vita decida per te o puoi, insomma, batterle cinque, prenderla sotto braccio e iniziare a percorrere la strada insieme alla vita, anticipare, per cui puoi reagire a ciò che ti viene sottoposto, il lutto, il licenziamento, il fallimento, il tradimento, l'abbandono, il giudizio, quello che vuoi, oppure non reagire ma agire, cioè andare incontro e magari cercare di anticipare certi tombini aperti per chiuderli e non cascarci più dentro. Ecco, tutte queste metafore, tutte queste parole saranno sedimentate, coagulate, in qualche modo portate a precisione il 6, 7, l'8 di gennaio, dalle 19 alle 21 nel gruppo di Facebook Riparto da Zero, nel gruppo di Facebook Riparto da Zero, nel gruppo di Facebook Riparto da Zero dove ti guiderò personalmente a riconoscere quelli che sono stati gli errori che sino ad oggi ti hanno ingessato, paralizzato rispetto a quelli che sono gli errori che invece dovrai andare a prendere, a bracciare, perché commettendoli diventerai ancora più forte e magari potremmo ripartire da Zero errori, sì perché si può, riconoscendoli, evitarli il più possibile. Io sono Roberto Cere, l'ho già fatto per migliaia di persone e lo posso fare anche per te, è gratis, non costa nulla, come ormai sei abituato a vedere in Facebook e in Instagram, siamo qui anche noi per servire, il 6, 7, l'8 ci vediamo nel gruppo Riparto da Zero, qui in Facebook o là in Facebook se mi stai guardando in Instagram. Ci vediamo, registrati da qualche parte, ci sarà la possibilità di registrarsi. Ciao!